La vertebra C7 ha somigliati uno sebbene manchi delle faccette per l'articolazione con la costa. Essa rappresenta l'interfaccia tra la lordosi cervicale, convessa in avanti, e la cifossi toracica, convessa indietro. Possiede ampi processi trasversi per le inserzioni muscolari e ridotti o assenti fori trasversi. Da questa vertebra si diparte, cranialmente, il legamento nucale, che, inserendosi lungo il suo decorso sui processi spinossi delle varie vertebre cervicali, arriva sulla cresta occipitale esterna. Questo legamento ha una funzione stabilizzatrice, mantiene la lordosi cervicale senza sforzo muscolare, e aiuta a riportarla in estensione quando il collo è inclinato in avanti.